Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una pinzetta chiamata inversa. È una pinzetta che permette di trattenere degli oggetti senza dover applicare una forza. Quando gli oggetti sono stati presi possono essere tenuti senza alcun problema. E poi è possibile rilasciare l'oggetto. Quindi se devo posizionare una sfera, una punta, qualcosa di molto preciso, posso utilizzare questa pinzetta inversa. Qui abbiamo preso una piccola graffetta. Vedete che è molto precisa e permette di contenere, di trattenere oggetti molto piccoli. Grazie per la visione e se trovate utili i nostri video mettete un bel mi piace alla nostra pagina, iscrivetevi al nostro canale. Grazie e a presto. Grazie a tutti.